Sta dando i primi importanti risultati la semina di vongole a circa un miglio dalla costa. Scattata tre settimane fa, grazie all'impegno del COGEVO, il Consorzio di Gestione delle Vongolare di Giulianova e alla collaborazione della Regione con l'Assessore all'Agricoltura e Pesca di Nopepè in prima linea, l'operazione ripopolamento dei fondali ha già un primo risultato. Il Novellame sta attecchendo su un fondale con una profondità che oscilla tra i 5 e i 7 metri. Questo significa che la vongola comune, la Venus Galina, ha trovato il suo ambiente ideale per svilupparsi e raggiungere la taglia minima per essere pescata e commercializzata. Il prelievo però non avverrà prima di 6-8 mesi, forse anche un anno, perché l'obiettivo dei pescatori è anche e soprattutto quello di consentire alle vongole di riprodursi naturalmente su questi fondali. La strategia messa in campo dal COGEVO e dalla Regione ha anche uno scopo ben preciso. Garantire ai pescatori di vongole uno spazio maggiore di pesca, fondali più ricchi e possibilità di organizzare zone di pesca a seconda dei periodi. Un sistema del tutto simile all'attività che gli agricoltori svolgono in campagna quando mettono a dimora un ortaggio in un appezzamento definito, lasciandone riposare un altro. E in mare, con l'iniziativa delle vongolare, accade un po' la stessa cosa. Tra l'altro, con la semina del Novellame a circa un miglio dalla costa tra Giulianova e Roseto, le imbarcazioni del COGEVO recuperano anche quello spazio che è venuto a mancare da quando è stata istituita l'area marina protetta del Cerrano.